Fino al 6 dicembre, Pernice Bianca, galliforme, completa di dita piumate, è in offerta! Basta poco per salvarla! Ideale per chi ama la montagna, la Pernice Bianca è perfetta per l'ecosistema delle Alpi. Disponibile in versione bianco-invernale o bruno-estiva. Manda subito un SMS al 48 588 e dona un euro. Sono rimasti pochi esemplari! E se aiuti la Pernice Bianca, aiuti anche l'ambiente, sempre allo stesso prezzo. Con la Lipu, salvare gli uccelli e l'ambiente costa poco e ci guadagniamo tutti. Lipu! Lipu!